Vuoi promuovere la tua attività? Aumentare considerevolmente la tua visibilità? E fare in modo che il tuo business cresca? Come? Con un progetto di videopromozione ad hoc. Con una sceneggiatura su misura per te? Uno storyboard completo e dettagliato? E ovviamente le riprese? Integrando al meglio tutti i tuoi contributi ci sono varie possibilità. Un video sulla tua storia? Oppure un video strettamente promozionale? O anche una serie di video che potrai condividere poi su PC, tablet, smartphone o sul tuo sito web. Così allargerai i tuoi contatti e aumenterai le tue possibilità.